C'è Bacim! Sembrano tutti vispi. Mi chiedo che cosa ci racconteranno oggi. Stava a vedere qualcosa, vabbè. Salve! Ho dormito male. Una piccola avventura mi farà stare meglio. Che cosa vogliono? Un libro mastro navale al porto. Di per sé non ha alcun valore, ma a loro servono le informazioni che contiene. Un gioco da ragazzi. Non chiedono niente di più difficile. So fare di meglio. Non essere presuntuoso. Le guardie del califo sono dappertutto. Faresti bene a tenerlo a mente. Ti preoccupi per me più di quanto non facessi a Paktad? Lo facevo anche allora, ma adesso sono troppo vecchio e stanco per nasconderlo. Porta qui il libro mastro. È in fretta. Vabbè, che gli vuoi dire di no? Abbiamo parlato del compenso. Non ancora. Lo faremo a incarico completato. Sai come sono fatti? Strano. Lui è solo un messaggero. E tu sei sempre un galoppino. Potresti agire da solo questa volta. Ha un bel amuleto blu sulla shop. Beh, ragazzi, è il momento di tentare di aprire il menù. Cosa ho... Ho cliccato P di pausa, eh. Bisogna dirlo. Codice. Ah, questi sono il database delle cose. Io non ho nient'altro, eh. Io ho queste due schede e basta per il momento. È la madonna un po'. No, 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 no. Allora, vediamo. È la madonna. È che ho la sensazione che le mappe siano rimaste abbastanza ampie. Perché se voglio vedere dove devo andare... Questo è ambare. Ok. Credo non è di ambare. Ruba il libro maestro. Cioè, io non ho altro. Opla. Cazzo. Ammontava tutto il carico ricevuto. Sedici casse, un forciere, mezza dozzina di borse. Restano solo tre casse, a quanto indica il libro maestro. Aspettiamo fino a domani sera per il ritiro. Se non si presenta nessuno, vorrà dire che si sono dimenticati della loro merce. Aprile tutte. Prendi quello che può farci gola e butta via il resto. Scemo. Aspetta qui. Non mi fa muovere il PG, quindi è scriptato. Vabbè. No, 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 lascia, lascia. Credevo che volessi rubarlo, ok? Che volessi derubarlo, vabbè. No, di esplorazione, ruba il libro maestro. Cazzo di libro maestro. Cazzo sta... La. Ah. Ok, la. Una guardia lì. Delle guardie qua. Ci sono delle guardie lì sopra? Forse sì. Ok. Qualcuno è seduto qua. Oddio, hanno messo che c'è proprio il laser della morte che parte dai loro occhi. Ok. Sei scendo qui? Poco male. Trova la chiave. Ma che sei scemo. Te devi essere scemo. In che senso trova la chiave? Chi ce l'ha sta chiave? Non mi dire che devo derubare questa guardia. No, 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 no. Io. Non c'è nessuno qui. Bravo, torna a girato. Ok. Ok, è mortito. Sì, spostiamolo. Boh, la chiave non ce l'aveva lui. Però qua non ci sono più guardie. Sì, non è quella la mia intenzione. Io vorrei sapere chi ha la chiave. Chi ce l'ha sta benedetta chiave? Eh? scendi, cretino. Allora. Allora. Cos'è stato? Mi scusi un attimo, la tramottisco due secondi. Babbo, è qua? Sì, no, Bashim, non dobbiamo trovare i dadi. Uh, posso tramortirlo da qua sopra? Che figata. Cioè, Bashim, comunque... Il fatto che tu non sappia fare lockpicking mi preoccupa un po'. No, è un po' troppo... Ignorato del tutto. Ah! Che cos'è stato? Sono stata io. Chi vuoi che sia stata? Così. Ok. Lui la chiave non ce l'ha. mannaggetta, ragazzi. Ah, così! Ho trovato dei soldi, spostiamolo. Senti un po'. C'è questa finestra che mi interessa da prima. No, niente, non mi fa entrare. Ok. C'è un problema. Vuole la chiave. Non mi dire che c'è l'ha quel coglione che sta lì seduto. C'è. No! Chris! Cribbio. Ah, c'è una qua, di lì. Ah, non l'avevo proprio visto. Ci converrà a sbicarci. C'è un altro mortire anche lui. No, niente. Oh, raga, c'è... Vediamo. Forse la chiave sta qua. Soldi. Eh, vabbè. Noi siamo dei ladri, quindi... Ah, sì? Mi posso nutrire? Vuoi mangiare? No, non mi sembra il caso. Allora. Porca zoccola. Chi ce l'ha sta benedetta chiave? Eh? Ahà. L'ho trovato. Ci sono voluti solo 1500 anni. Oh, mio Dio! Hanno ripristinato questi posti! Ce ne erano un sacco all'inizio della saga! Adoravo nascondermi qua dentro. Che bello, che bello. Dov'è il tizio della chiave? Me lo so perso. Ah, sta qua. Sta dentro, fuori. Dove... Dove è situato? È dentro. Ok. Mi fa la cortesia di uscire? No! Perché dovrebbe mai uscire? C'è qualcuno qua sotto? No. 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 Babu. Eh... Lui fa su e giù. Vabbè. Proviamo dall'altro lato. Ah, cioè, proprio deve entrare da qui. Vediamo. Oh, my God. Micidiale. Spostiamolo. Oh, devi spostare. Dai, Basim. Basim. Io troverò prima o poi... Oh, mio Dio! Hanno ripristinato anche questo! Che bello, che bello. E niente, sto andando in effetto nostalgia fortissima. Come cazzo si sale? Da qui. Piano. Piano. Molto piano. Pianissimo. Sare abbastanza coglione? Sì, è abbastanza coglione. Ok. Ok, 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 ok. Perché borseggiarlo se lo posso tramortire? Perfetto. Ok, abbiamo finalmente trovato se la benedetta chiave. Grazie! Oh, possiamo andarci. Grazie. Bene. Credo sia quel che sto cercando. scusi è una mia brutta abitudine chissà quali segreti ci sono qui dentro forse riuscirò a strappare il vecchio derwish qualche dettaglio sul contratto forse ah finalmente può correre da covacciato una cosa scomodissima ma può farlo ok possiamo correre e basta perfetto vabbè no non c'è bisogno di fare così tanto gli sboroni io è un'assassina ha un'aria importante potresti tirare sul prezzo basim scusi ma è stato facile siete una di loro ecco pare sia stato consegnato questa mattina certa sia il forziere che cerchi ne sono certa paga il ragazzo se dovete rubare qualcosa io faccio al caso vostro derwish può confermare mi ha girato i vostri contratti allora hai fatto la tua parte posso fare di più ho perso due uomini scelti in questa ricerca dubito che un ladro di strada farà di meglio ma come avete due posti liberi lasciatemi provare tanto al massimo cioè no niente vabbè ci hai provato basim eh ma la signorina degli assassini secondo me si ricorderà ma come così come come un pezzente li implori di darti attenzione pezzente nihal io faccio bene il mio lavoro quella donna sarebbe fortunata ad avermi peccato che non ti voglia sei un ladruncolo e anche sudicio perché insisti perché continui a spingerti su questa via perché essere un ladruncolo non è la mia vera ambizione ho altro da offrire al mondo oltre alle mie dita svelte solo che il mondo non lo sa quasi che cos'è? aha è la mia ultima creazione mi serve per difendermi dai mercanti furiosi quando mi beccano a frugare tra le loro cose allora mi considero fortunato questo odore che cos'è? ah siamo stati al porto a pescare per tutta la mattina ma ci è andata male ah al porto hai visto sentito qualcosa a proposito di un forziere? ah si quello nero molto bello delle guardie forzute lo hanno portato a palazzo tan 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 ti ringrazio jazib non mi dire che adesso andremo a palazzo basim ti vuoi far notare così tanto? che cosa ha in mente? vogliono quel forziere e io andrò a prenderlo per loro gliela farò vedere cioè tu guberai il forziere agli assassini prima che gli assassini lo prendano no ovviamente allora ci proveremo insieme se ti farai scoprire nel palazzo d'inverno ti uccideranno all'istante ci serve un ingresso sicuro e io so dove possiamo cercare sempre che ti stia bene lasciarti guidare una volta tanto si ma io posso veramente mangiare per stare meglio si ma cosa? perché non vedo molte mi scusi non volevo stavo cercando cibo mangia scusi non 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 no Grazie.